buongiorno a tutti e tutte mi chiamo razzi schifone e leggerò un passo dal libro undicesimo delle metamorfosi di apuleio in traduzione italiana per l'associazione glow copies di roma il passo racconta la preghiera di lucio alla luna e l'apparizione di iside che gli predice la fine delle sue sventure in forma di asino dovevano essere le prime ore della notte mi svegliai di soprassalto in preda un senso d'angoscia e vidi il disco pieno della luna brillante di un chiarore straordinario che proprio allora emergeva dalle onde del mare voglia approfittare del segreto silenzioso della notte oscura e sapendo bene che colei che la più grande tra le divinità regna con potere assoluto sugli animali gli elementi la terra e il cielo che crescono e decrescono con lei e poiché il destino pareva ormai sazio delle mie tante e terribili disavventure e mi offriva una sia pur tardiva speranza di salvezza decisi di implorare quella veneranda immagine della dea che mi stava innanzi e subito scossomi di dosso il torpore del sonno mi alzai pieno d'ardore innanzitutto mi purifica immergendo per sette volte il capo nelle onde col volto rigato di lacrime dunque rivolsi alla dea onnipotente questa preghiera regina del cielo cerere datrice di vita e prima creatrice delle messi che lieta per il ritrovamento della figlia bandito quel pasto degno di bestie la ghianda dell'età primitiva rivelasti un cibo più tenero e adesso rendi fertile la terra di aleusi o venere celeste che al principio di tutto generando amore hai accoppiato i tuoi sessi e perpetuato il genere umano con una discendenza infinita adesso sei adorata nel santuario di pafo circondato dalle onde o sorella di febbo che alleviando il parto alle donne è fatto nascere interi popoli e ora sei venerata nel tempio famoso di efeso o proserpina terribile coi tuoi ululati notturni che mostrando il tuo triplice volto tieni a freno gli assalti dei morti e sbarrì loro le porte della terra errando qua e là tra i boschi sacri sei invocata corriti diversi tu che con questa tua luce femminile rischiare le mura di ogni città e che con il tuo umido calore nutri le feconde sementi tu che con il ciclo dei tuoi moti solitari spargi ovunque il tuo incerto bagliore con qualunque nome con qualunque rito sotto qualunque aspetto sia lecito invocarti ti prego soccorrimi nel momento supremo della mia sventura risolleva il mio destino in miseria e concedi una tregua pace ai casi crudeli che ho patito basta sofferenze basta pericoli fa sparire il volto orrendo della bestia restituiscimi alla vista dei miei cari restituiscimi al lucio che sono e se poi un qualche dio offeso a perseguitarmi con crudeltà implacabile mi sia almeno concesso di morire se non mi è concesso vivere dopo che ebbi pronunciato queste preghiere il sonno calò sul mio animo esausto avvolgendolo completamente avevo appena chiuso gli occhi ma ecco che dal seno del mare emerge un'apparizione divina mostrava un volto degno di essere adorato persino dagli dei poi a poco a poco sorgendo in tutta la sua persona quell'immagine luminosa scuotendosi di dosso le onde marine mi parve che venisse a fermarsi proprio davanti a me ora io tenterò di descrivere anche a voi il suo aspetto meraviglioso per quanto inadeguata sia la lingua umana o meglio se la stessa dea mi concederà in dono la felice ricchezza di un'eloquenza efficace i suoi capelli fortissimi lunghi e ondulati lasciati sciolti e sparsi le ricadevano morbidamente sulle spalle divine una ghirlanda di fiori di ogni specie le stringeva la sommità del capo e sulla fronte proprio nel mezzo un disco piatto una specie di specchio anzi piuttosto un simbolo che rappresentava la luna mandava un bagliore luminoso ed era cinto a destra e a sinistra da spire di serpi che rizzavano la testa mentre sulla parte alta lo sovrastava una fascia di spighe sacre a cerere aveva una tunica dai colori cangianti e in tessuta d'un lino sottile che pareva ora chiarissima d'un bianco candido ora gialla color zafferano ora fiammante del rosso delle rose e a confondere ancora di più il mio sguardo un manto nerissimo brillante ed una cupa lucentezza che girandole tutto intorno al corpo e passando sotto il fianco destro risaliva su per la spalla sinistra mentre l'estremità ricadeva giù con un panneggio a pieghe fino all'orlo e flottoava bellissimo sparse da ogni parte lungo l'orlo ricamato e su tutta la superficie della veste scintillavano delle stelle e in mezzo ad esse una mezza luna effondeva fiamme infocate lungo tutto il bordo andeggiante di quel suo magnifico mantello era applicata un'unica e ininterrotta ghirlanda composta di fiori di ogni specie di frutti di ogni tipo gli ornamenti che portava poi erano i più svariati nella mano destra teneva un rostro di bronzo la cui lamina sottile attraversata da bacchette mandava un suono argentino dalla mano sinistra pendeva un vaso un vaso d'oro a forma di navicella sormontato da un aspide che rizzava in alto la testa gonfiando enormemente il collo dei sandali in tessuti di foglie di palma simbolo di vittoria coprivano i suoi piedi divini in questo aspetto maestoso ed emanando deliziose fragranze da rabbia si degnò di rivolgermi la sua divina parola eccomi lucio commossa dalle tue preghiere vengo a te io la madre della natura la signora di tutti gli elementi l'origine prima dei tempi la più grande tra gli dei la regina dei morti la signora dei celesti l'immagine unificante di tutti gli dei e le idee io che regolo secondo la mia volontà le luminose altezze dei cieli e salubri brezze dei mari e disperati silenzi degli inferi e il mondo intero venera la divinità unica che io sono sotto diverse forme con differenti riti e con i nomi più vari i frigi mi chiamano la madre degli dei di Pessinunte gli Atenesi autoctoni Minerva Cecropia i Ciprioti bagnati dai flutti Venere di Pafo e i Cretesi armati di frecce Diana di Ctinna i Siculi trilingui Proserpina Stigia gli antichi abidatori di Eleusi Cerere Attea alcuni mi chiamano Giunone altri Bellona gli uni Ecate gli altri Ramnosia ma coloro che sono illuminati dai primi raggi del sole che nasce e da quelli morenti del sole al tramonto le due razze degli Etiopi e con loro gli Egizi insigni per la loro antica sapienza onorandomi con il culto che più mi si addice mi chiamano col mio vero nome Iside Regina vengo a te perché ho avuto compassione delle tue sventure vengo a te benevole e propizia cessa ormai questo pianto e poni fine ai tuoi lamenti scaccia l'angoscia ecco grazie al mio favore per te sorge ormai il giorno della salvezza e dunque rivolge il tuo animo turbato agli ordini che adesso ti darò quello che sorgerà da questa notte il giorno che mi è stato consacrato da un'usanza religiosa senza tempo quello in cui al placarsi delle tempeste invernali e al calmarsi dei burrascosi flutti marini i miei sacerdoti consacrano all'oceano ormai navigabile una nave nuova e offrono in sacrificio la parte migliore del carico trasportato e tu dovrai aspettare questa sacra cerimonia con animo sereno e devoto perché grazie a un mio avvertimento il sacerdote proprio al partire della processione porterà nella mano destra attaccata a un sistro una corona di rose tu allora senza esitare fatti largo con decisione tra la folla e va incontro al corteo confidando nella mia benevolenza e quando sarai vicinissimo dolcemente come se volessi baciare la mano del sacerdote coglierai le rose e immediatamente ti spoglierai del cuoio di questa bestia che già da tempo mi è odiosa e non temere che anche una sola di queste mie istruzioni sia troppo difficile perché in questo stesso momento in cui mi mostro a te manifestandomi contemporaneamente anche lì da lui sto spiegando al mio sacerdote durante il sonno quello che dovrà fare in seguito per mio ordine le file della gente a calcata si apriranno davanti a te e in mezzo all'atmosfera gioiosa della cerimonia e a quel festoso spettacolo nessuno proverà ribrezzo per questo aspetto mostruoso che hai e nessuno si accanirà con accuse contro di te ma tu ricorda bene e tienilo serbato nel profondo del tuo cuore che quanto resta del corso della tua vita fino al momento del tuo ultimo respiro sarà consacrato a me del resto è giusto che di tutto il tempo che vivrai tu sia debitore verso colei che col suo benefico intervento ti ha fatto tornare tra gli uomini e tu vivrai felice vivrai pieno di gloria sotto la mia protezione e quando poi avrai percorso il tuo cammino sulla terra e scenderai agli inferi anche lì in quel sotterraneo emisfero vedrai me proprio come mi vedi adesso emanare la mia luce tra le tenebre della cheronte e regnare sui bui recessi dell'ostige e tu allora abitando i campi elisi continuerai ad adorarmi a te propizia per sempre e se poi tu con la costanza del tuo omaggio con la devozione del tuo servizio e con la tenacia della tua castità ti sarai guadagnato il mio favore scoprirai che io sola ho il potere anche di prolungare la tua vita oltre i termini stabiliti del fato grazie grazie a tutti grazie a tutti